Buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta giornata del campionato di segnati e minire. Iniziamo a presentare la squadra oggi, con la mano per le cose più quali suono. Con il numero 1, Oresti Rosa. Con il numero 3, Lorto Rosa. Con il numero 7, Lorti Giada. Con il numero 8, Lortini Laura. Con il numero 10, Le Marche in Alessia. Con il numero 11, Sardini Lina. Con il numero 17, Zanetta e Laura. Con il numero 8, Sardini Liretti. Con il numero 10, Appetà e Lida. Con il numero 25, Montesini di Marica. Con il numero 24, Cattopola e Sara. Con il numero 26, Montesini di Sanchezca. Con il numero 55, Montesini e Martina. Arminatore, Montesini di Marica. Con il numero 26, Montesini di Sanchezca. Con il numero 16, Montesini di Sanchezca. Con il numero 25, Montesini di Sanchezca. Con il numero 27, Elena Montano. Con il numero 26, Montesini di Sanchezca. Con il numero 31, Montesini di Marica. Con il numero 24, Sofia Ranieri. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti